Per approvarla in aula ci vorranno almeno 27 firme ma il PD in conferenza stampa annuncia che entro questa settimana si deciderà se ci sono i numeri per presentare una mozione di sfiducia assieme a DR, UDC ed NCD. Per sottoscriverla e presentarla all'esame del Consiglio ci vorranno almeno 16 consiglieri ad autorizzarla. Elencando le disfatte della gestione economico-finanziera di Palazzo Zanca, gli esponenti del Partito Democratico spiegano che è scaduto il tempo dell'amministrazione a Corinti su cui oggi si allunga anche l'ombra di un possibile commissariamento alla luce degli estremi ritardi per la presentazione del previsionale 2015. Sì, ci sono tante autorità che ormai si interessano al nostro comune e questo ci dà una preoccupazione immane. Si sta interessando il prefetto, si sta interessando l'assessorato regionale e agli enti locali, si è interessata la Corte dei Conti trasmettendo degli atti alla procura della Corte dei Conti e quindi non sappiamo se ci saranno anche altre autorità che si interesseranno della vicenda perché la situazione non è più sostenibile. E certamente il bilancio di previsione 2015 che è propedeutico a tutto, ma ancora più era propedeutico alla delibera sul raccertamento straordinario. Io mi chiedo, onestamente mi chiedo, come hanno fatto il 9 dicembre del 2015 ad approvare una bozza di bilancio di previsione senza aver avuto, innanzitutto senza aver approvato prima il consuntivo 2014 e poi il raccertamento che contiene il raccertamento ordinario delle passività e delle attività. Quindi come fanno a fare un raccertamento straordinario quando ancora non hanno approvato il raccertamento ordinario degli attivi e dei passivi. Grazie.